Grazie. Una foto di gruppo? Sì, noi siamo monarisi. E noi lo siamo, orgogliosi. Una foto di gruppo, ragazzi. Che filo? Bernardo, dai facciamo una foto. Lu, facciamo una foto. La vuoi in personale o di gruppo? Il dono di terra. Unisignori. Dovete fare un dono di terra. Vabbè, Vabbè, Valentino non lo vogliamo. Vabbè, ne ho fatto una decina. Vieni, vieni. Sardegna e Vacanze Romane.